Grazie a tutti. 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 Trasporti, Massimo Deiana. Naturalmente grande soddisfazione. Sì, grande soddisfazione perché come ho detto anche prima si tratta ovviamente di un risultato che viene dopo due anni di lavoro molto duro e complesso e anche molto delicato in condizioni ambientali che non lo hanno sempre sostenuto da un punto di vista anche proprio della sua realizzabilità, anzi qualche volta hanno rischiato di comprometterlo. Quindi la soddisfazione è doppia. La soddisfazione è doppia anche perché stiamo mettendo in piedi un meccanismo che mette in sicurezza l'aeroporto di Alghero, i suoi conti, la sua stabilità finanziaria, quindi la sua agibilità economica e commerciale. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che questo è il presupposto necessario per cui l'aeroporto di Alghero certamente si potrà rilanciare e potrà occupare il posto che gli compete nel panorama aeroportuale sardo è come asset fondamentale dell'economia del nord-ovest della Sardegna. Aeroporto da rilanciare anche con un piano di incentivi all'aeroporto, ci state lavorando, a che punto siamo? Ci stiamo lavorando e come abbiamo più volte detto le condizioni attualmente vigenti non consentono interventi diretti sulle compagnie e non consentono interventi diretti sugli aeroporti per il sostegno alle compagnie perché questa è la situazione. Noi immaginiamo invece un intervento strutturale sugli aeroporti con degli aiuti consentiti che vanno a sostenere gli obblighi di servizio pubblico aeroportuale, quindi consentendo agli aeroporti di essere più competitivi sui costi dell'handling e dei servizi aeroportuali ovviamente per relativamente un certo tipo di traffico, nel caso che ci interessa stiamo parlando del traffico aereo internazionale destagionalizzato perché d'estate non abbiamo certamente problemi a far arrivare aeromobili, a far arrivare compagnie. Il problema che si pone più grave è ovviamente quello che va da settembre, da ottobre ad aprile e quindi noi puntiamo realmente su questo. Adesso sicuramente anche avendo la società di gestione di Alghero messa in questo tipo di condizione siamo in grado di operare meglio e con un sistema più ordinato e più sicuro. Lasciamo l'aeroporto e parliamo di un'altra questione delicata aperta da diverso tempo e per fortuna conclusasi positivamente proprio ieri perché per la prima volta il parco di Porto Conte assume in pianta stabile il personale e licenzia un piano pluriennale della dotazione organica. Si tratta nello specifico di 10 amministrativi che fino al 2014 prestavano sulla base di contratti di somministrazione attraverso società interinali, mentre negli ultimi due anni sulla base di una convenzione tra Parco e Atifras, così come gli operai addetti alla manutenzione delle infrastrutture, degli immobili del verde pubblico e i quali però rientrano tra i lavoratori del parco geominerario e verranno trasferiti ad Igea. Per quanto riguarda la delibera portata ieri in assemblea, questa è passata grazie ai voti favorevoli di maggioranza, Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto e Nuovo Centrodestra. Si è astenuta invece Forza Italia che aveva presentato una risoluzione respinta dalla maggioranza. Pur esprimendosi favorevolmente alla salvaguardia delle figure professionali che in questi anni hanno lavorato nel parco, Pirisi, Paese e Camerada si sono detti preoccupati per l'incremento di ulteriori figure professionali in pianta stabile come previsto dalla delibera. A fronte delle progettualità in divenire hanno sottolineato i consiglieri forzisti non vi è alcuna certezza di risorse stabili e certe a garantire la retribuzione di nuovi operatori. Si è detto soddisfatto invece il sindaco Mario Bruno, il prossimo atto sarà a brevissimo, l'elezione del presidente del nuovo consiglio direttivo e la revisione del piano del parco in sintonia con le scelte urbanistiche e paesaggistiche che stiamo assumendo con il PUC, ha detto il primo cittadino. Il parco è davvero uno strumento di sviluppo concreto del nostro territorio e sarà da subito chiamato ad agire in sintonia con la Fondazione Meta nelle politiche turistiche, dei beni culturali, archeologici e ambientali del nostro territorio. Facciamo un'altra pausa. Parliamo adesso di miroranze linguistiche. A ragione l'assessore della cultura Firinu, il governo Renzi ed il centro-sinistra nazionale hanno discriminato il sardo nella legge della riforma della RAI prevedendo fra l'altro risorse solo per la convenzione fra la RAI e la provincia autonoma di Bolzano. Ma la Firinu con la convenzione fra la regione e la RAI per la programmazione regionale su RAI 3 e Radio 1 ha discriminato la lingua catalana di Alghero non riservando le pari trattamento rispetto a quella sarda. Così interviene il vice capo gruppo di Forza Italia ed ex sindaco di Alghero Marco Tedde in relazione al mancato inserimento del catalano di Alghero nella convenzione fra la regione e la RAI per l'utilizzo della lingua sarda sui canali radio e tv della RAI. L'Europa dal 1992 e lo Stato italiano dal 1999 ci dicono che si deve promuovere e valorizzare l'utilizzo delle lingue minoritarie prevedendo specifiche disposizioni che ne favoriscono l'impiego nel servizio pubblico radio televisivo. In questa convenzione si legge ancora la regione avrebbe potuto inserire anche il catalano di Alghero ma non lo ha fatto eppure Pigliaro sottolinea Tedde aveva manifestato la volontà di dare centralità le identità sarde invece sta realizzando di fatto una formatazione delle identità regionali in spregio ai principi comunitari a quelli tutelati dalla Costituzione italiana dalla legge numero 482 del 1999 e della legge regionale numero 26 del 97. D'altro canto null'altro ci possiamo aspettare da una giunta il cui delegato alla cultura ricorda l'ex sindaco di Alghero aveva catalogato il catalano di Alghero come una variante del sardo. Occorre avere invece l'intelligenza politica di valorizzare tutte le identità e le culture dell'isola per contribuire a realizzare un'Europa che si fonda sulla diversità delle culture regionali. Non vorremmo essere costretti a pensare, chiude Tedde, che è in atto una sorta di revisionismo culturale inserito nel più ampio disegno di marginalizzazione del nord ovest della Sardegna. Le associazioni Lufruntuni, l'Omnium Cultural dell'Alghè, la Vela Latina e Storie di Alghero organizzano anche quest'anno una giornata dedicata ai pescatori e alla marineria algherese domani sabato 31 di dicembre alle ore 10.30 in Piazza Civica all'interno del programma Porto Dentro organizzato dalla Fondazione Meta le associazioni consegneranno degli attestati ai pescatori ancora in attività ai pensionati e in memoria ai familiari di coloro che non sono più in vita. In Piazza Civica, fra i Gozzi e le Spagnolette, verrà messa in evidenza l'importanza economica, sociale e linguistica che ha avuto e che continua ad avere la marineria algherese, vero patrimonio identitario e culturale della nostra città. Interverranno Roberto Barbieri, Carlo Catardi, Stefano Campos, Enea Cardone, Nino Monti, coordinerà Antonello Bilardi. Tutti i pescatori con i loro familiari e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare ricordiamo domattina in Piazza Civica dalle ore 10.30. Facciamo l'ultima pausa pubblicitaria. 90 anni dal premio Nobel e 80 anni dalla sua morte nel 2016. È stato forte il ricordo per Grazia De Ledda. Alla scrittrice Nurese, Neria De Giovanni, ha dedicato diversi libri, l'ultimo dei quali uscito quest'anno. Ne abbiamo parlato proprio con la De Giovanni ed è stata l'occasione anche per fare un passaggio sul premio Alghero Don. In compagnia di Neria De Giovanni, quest'oggi parliamo innanzitutto del suo ultimo libro, della sua ultima fatica, della sua fatica dell'Edda e poi di alcuni appuntamenti che ci sono stati recentemente. Partiamo innanzitutto però dal libro. Grazia De Ledda, grazie. Anche perché quest'anno è un anno particolare. Tutti hanno parlato di Grazia De Ledda. Io ho scritto un articolo a proposito di comunicazione in cui dico tutti i pazzi per Grazia De Ledda. Certo, anche chi non l'aveva mai studiata o letta oppure chi addirittura ne aveva parlato male. Comunque questo sono gli 80 anni dalla morte di Grazia De Ledda e tra il 2016 e il 2017 sono i 90 anni del suo premio Nobel. Quindi io ho scritto il mio quattordicesimo libro su Grazia De Ledda, visto che la fedeltà è un grande pregio, io credo, e questo è il mio quattordicesimo libro su di lei. È stato presentato il primo marzo a Montecitorio perché è inserito in una collana intitolata Italiane e di questo caro Stefano sono molto orgogliosa perché Grazia De Ledda non è soltanto, grazie a Dio, appunto un premio Nobel sardo ma è di tutta Italia e di tutto il mondo, quindi è inserito in quella collana e sono veramente molto soddisfatta e ringrazio tutte le amiche e gli amici di Alghero che hanno voluto farmi chiudere quest'anno con due bellissime presentazioni del libretto su Grazia De Ledda. Il 21 di dicembre, prima di Natale, abbiamo parlato di questo libro alla biblioteca di San Michele che tra l'altro ne approfitto di questi microfoni per dire che è veramente bellissimo, il quartier io non l'avevo ancora visitato tutto ma è splendido, è veramente un bellissimo contenitore di cultura e si possono fare veramente tante belle cose. È il 28 di dicembre, dopo Natale, la FIDAPA, di cui mi onoro appunto di essere socia onoraria, di Alghero ha organizzato i Cent'anni di Cenere perché nel 1916 fu prodotto il film Cenere, l'unico film girato da Leonora Duse tratto appunto da un romanzo di Grazia De Ledda. Quindi è stata l'occasione per vedere il film Cenere, il film muto Cenere, rivedere Leonora e insieme a lei riparlare di Grazia e tutto questo sempre allo quartier però nella sala convegne. E poi recentemente c'è stato il premio Alghero Donna, adesso cambiamo argomento, a Roma. Esatto, sì. Anche il premio Alghero Donna ha una storia parallela a Grazia De Ledda perché quest'anno l'abbiamo voluto dedicare a lei e anche pensando al fatto che il nostro Presidente della Repubblica, il 15 agosto aveva diramato proprio una sua nota, il 15 agosto è il giorno in cui è morta Grazia De Ledda, una nota in cui ricordava appunto la grande scrittrice. Quindi abbiamo preso questo spunto per scrivere al Presidente della Repubblica e lui ci ha onorato, anche questo cari amici veramente lo vorrei sottolineare come un grande risultato per tutti noi, per tutti noi del premio Alghero Donna, ci ha regalato la sua medaglia di rappresentanza che insomma è abbastanza prestigioso visto che non l'aveva così facilmente. Quindi praticamente il premio Alghero Donna a Roma è venuto anche il Sindaco perché l'amministrazione di Alghero ci appoggia diciamo come organizzazione, ha avuto veramente una vetrina e quindi Alghero stessa ha avuto una grande vetrina nazionale. Ed è tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci.